Ciao a tutti i campioni, buon Natale Maglione rosso per augurarvi un glorioso Natale a tutti Noi siamo qua in challenge per andare a vedere la ruota della fortuna, cosa dirà oggi Quindi non perdiamo altro tempo Lasciate un like per piacere, continuate a sostenermi anche se nessuno mi sostiene Ora giriamo la ruota della sfortuna ormai Andiamo a girare la ruota E' uscito il sassuolo di Mimmo Berardi Andiamo a costruire la nostra squadra Questa è lo squadrone che abbiamo fatto Qui ci saranno tutti i prezzi Oggi non possiamo fare le qualifiche perché le ho già fatte e non mi sono qualificato Dai, con il nostro 4-3-3 Noi non temiamo nulla Uh, chiusura di Pedersen Uh, Pedersen, ancora lui Laurentier Guadagna Laurentier Uh, C-c-c-c-c-cragno In pochi capiranno Uh, oddio Laurentier L'ha visto Maggiorami 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 Laurentier Azione tutta in ripartenza Del sassuolo Uh, il prezzi funziona Laurentier Rientro Laurentier al tiro Paratona di... Non so il suo portiere che sia Brutto Oddio Cragno Paratona di Cragno Paratona di Cragno Senza Oddio Ribattuta Di Cragno Sui piedi di Salah Boteva fare meglio Sì Ah, vabbè Non fa nulla Ci pensiamo noi Berardi Berardi Non l'ho fermato nessuno Berardi 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 mette il portiere Il tiro Mi fa Berardi In tutto questo C'è dietro il verde Come la moneta del sassuolo Vabbè, vivo di queste coglionate Nel senso Però Nessuno se ne sarà accorto Ovviamente C'è un pasticcio qua Ciccio pasticcio Uh, Haaland Si scontra contro Viti Ma Viti c'è Viti c'è Non si intendono Laurentier Con Pinamonti Oddio L'ho appena detto L'ho appena detto Viti non molla Un centimetro Su Haaland Un altro scarico Bacirami Paratone Infatti questo è un difusore centrale Ballack Ballack Cross di Ballack In gol di Garnaccio Come fa a non essere fallo quello? Come fa a non essere fallo però Addio Laurentier Rigore Il trascinatore della squadra Mimmo Si accorciano le distanze 4-3 Guardo gli avversari Ballack Trist È triste È molto triste Siamo in luto oggi L'ha visto al secondo palo? No Laurentier Cazzo Tira il volo Ed è finita così 5-3 Immeritatissimo Se parer mio Immeritatissimo Ci vuole A strigliate ragazzi Vediamo se il mister Per le prossime Riesce a svegliarli Andiamo con la seconda partita Dai Tieni Vai a divertirti Rinfoglionito di mardo La seconda non è andata bene Quindi siccome abbiamo giocato Meno di 3 minuti La facciamola in più Disastro sassuolo ragazzi Bene Anche questa Pure dei coglioni Un'espulsione Già Con il sassuolo Più un espulso Succede un Un casotto Ok Ci siamo Questa è la seconda Dai Che uzzurone Dai bro Brate Oddio Che Gioco Fantastico È buono Ma raga Ho fatto un golasso Con Berardi Mimmo Berardi Mimmo Berardi E si è in la rimetta a posto Dai Non è vero Fuori gioco Mi auguro No L'85esimo L'85esimo Il gol di Witzel Chiude una partita Incombattuta E anche la seconda partita Sfuma Così Dai 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 Terza partita L'ultima Ci chiamo di fare bella figura Almeno qua Almeno qua Raga ma che azione è questa Oh Ma che cazzo di azione ho fatto No Calcio di rigore ragazzi Non è possibile che l'abbia azzeccato Eccolo là Pina Pina Monti Monti Lui Dai Oddio Pina Monti Galvanizzato Eccolo Mimmo Berardi Single 3-1 Al 41esimo Si è fermato Pina Perché ho chiamato Pina Un altro di Pina Pina Monti Nedved Non è abituato ai difensori Degli ultimi anni Lui la giocava negli anni 90 Oddio Pina Monti Assiste esterno Di Trivela Di Berardi Rovesciata di Pina Monti Ma che cosa sta succedendo Ragazzi Bajrami Li manda al bar tutti Occhio Occhio Potrebbe liberare il tiro E c'è anche lui Tr-Tor-St-Ved Attenzione Spero che questa partita Sia Valso La durata del video Perché questa è una grandissima partita Ragazzi Non è ancora finito il video Credevate eh Vi ho fatto una burla Allora ragazzi Voto a questo Pazzo Sassuolo Ci aggiriamo sul 4 e mezzo 5 dai 5 ma perché solo Mi ha fatto godere L'ultima partita Berardi però è simpatico Non sto scherzando Ho provato anche Il primo IF Se non sbaglio L'86 E non era male Ora Da vedere ora Col gioco aggiornato Com'è Però Che io mi ricordo Non era male Neanche quello Però Se volete divertirvi Infatti Prendete un Berardi Che non costa un cazzo E comunque Il suo lo fa E ridete anche Vi dico la verità Ragazzi Io vi ringrazio Chiunque sia arrivato A questo punto del video Ringrazio tutti E Questo era Il Sassuolo Venite a scoprire Chi sarà il prossimo Non so come dirvelo Nel senso Venite a scoprire Chi sarà il prossimo Vi lascio tutti i miei link In descrizione E se avete Voglia Supportate Mi fa sempre piacere Se non avete voglia Non ci sono problemi Grazie a tutti Auguri di buon Natale Ci vediamo Il prima Possibile Un bacione Ciao campioni Aroccusuolo 40 Iscriviti Il prima Aroccusuola Grazie a tutti.